Cosa vi suggerisce la risurrezione del mio figlio? 28 marzo 1978 Figli di Letti, sia pace a voi! Voglio esservi ancora maestra in questo periodo liturgico, per invitarvi a fare della vostra vita una continua elevazione, un continuo progresso verso la conquista del sommo bene, Dio. Dovete vedere la vita come una vigna da coltivare, come un pane da spezzare coi fratelli. Dovete vederla come una rinascita continua e un arricchimento di meriti. Dovete vedere la vita come un grande dono, una grande responsabilità, di cui vi sarà domandato stretto conto e che dovete utilizzare a gloria di Dio. Tutto questo vi suggerisce la risurrezione del mio figlio, che preannuncia la vostra risurrezione. La vigna suppone che voi siate operai assidui e premurosi, che sanno a suo tempo potare, rincalzare, innaffiare e concimare le pianticelle seminate. Si richiede perciò buona volontà e praticità. Si richiede fatica, sacrificio, e quel saper togliere ciò che può essere dannoso. Una vita spirituale ben curata diventa come un albero grande, che accoglie alla sua ombra non soltanto il padrone dell'albero, ma anche tutti coloro che, bruciati dal sole delle passioni o dal vizio o da cattive abitudini, possono chiedere refrigerio. È come una parabola la mia, ma il vero padrone dell'albero e della vigna non è forse il Signore, che può avvicinarsi all'anima e chiedere conto di tutto, quando vuole. E chi sono coloro che si riparano all'ombra dell'albero grande, se non le vostre anime arricchite di grazie, e tutti coloro che, venendo a voi, possono essere aiutati? Figli, è bello poter dare, dare sempre, senza aspettare nessuna ricompensa umana. Chiedono forse gli alberi la ricompensa agli uccelli che edificano il loro nido in mezzo ai rami, e che si riparano alla loro ombra? E intanto gli uccelli crescono, si nutrono, e imparano i primi voli, per riempire poi il cielo di voli e l'aria di trilli. Così, se, dopo aver coltivato le virtù che Dio desidera da voi, vi donate con bontà al vostro prossimo, tutti possono attingere da voi, cresce in loro l'amore di Dio, imparano i voli dello Spirito e aspirano alle cose di cielo. È veramente così che voi divenite pane, che tutti possono mangiare e gustare e servirsene a piacimento, anche se con vostra sofferenza. Gli uomini di questo mondo sono attratti dalle cose umane e credono in ciò che vedono, vogliono toccare con mano. La bontà è una virtù che esige manifestazioni esterne. Solo a queste molti credono. Occorre perciò tradurla in opere, occorre spezzare il pane, cioè donarsi. Quando Gesù incontrò i due discepoli di Emmaus, essi non lo riconobbero per le sue parole, ma, quando sedette a tavola e spezzò il pane con loro, si aprirono i loro occhi. Sempre così si deve agire nel mondo. Alle parole buone devono corrispondere i fatti, le testimonianze. Solo da questi viene la luce. Non ha detto Gesù che le opere devono essere luminose perché gli uomini, vedendole, possano lodare Dio? Vi voglio far osservare un altro episodio della vita di Gesù dopo la risurrezione. Voi venite al gruppo, e siete per la maggior parte donne. Ebbene, Gesù apparve, prima che ad ogni altro, alle donne. Tra queste, proprio alla Maddalena, che aveva avuto un passato non certo esemplare. Voglio che vi rallegriate di ciò e che sappiate riconoscere, anche in questa preferenza, la grande stima che egli ha per il sesso debole, come si usava a chiamarlo un tempo. Gesù, di donne peccatrici, di donne incapaci, ne fa delle apostole, e affida ad esse dei compiti non solo delicati ma anche importanti. Non è forse la Samaritana che richiama tutto il paese attorno al Salvatore. E, dopo la risurrezione, è la Maddalena che riceve l'incarico di avvisare gli Apostoli e di portare a loro conoscenza che Gesù, dopo essere salito al Padre, sarebbe sceso in Galilea per incontrarsi con loro. Di tutto ringraziate il Signore, e sappiate tenere in molto conto questa stima che la Trinità Santissima ha per la donna, a cui affida compiti e responsabilità particolari. Se ciascun cristiano deve spezzare il pane nella sua vita per far godere altri dei suoi doni, in un modo tutto particolare lo deve spezzare la donna, chiamata ad essere il cuore della famiglia, la maestra, l'educatrice e la consigliera dei figli, e molte volte anche del marito. Con gioia portate a termine il vostro compito a bene dell'umanità. Figli, vi benedico e vi prego di mettere in pratica i miei insegnamenti, se volete avere la promozione. Benedico le persone che mi raccomandate. A tutti il mio abbraccio.